Siamo di nuovo qua a rappresentare che il Jobs Act fa acqua da tutte le parti, è un ombrello che non copre, non tutela, non estende i diritti ed è quello che chiediamo con la nostra campagna per tutti. Per tutti una cosa che il Jobs Act non è, anzi non è per nessuno e rispetto a questo noi chiediamo che nei decreti attuativi ci sia una previsione davvero di estensione, davvero di miglioramento dei diritti. Non ci crediamo e quindi daremo battaglia fino in fondo.